Ho appena concluso due lunghe telefonate con il ministro degli estri francesi Catherine Colonna e con quello britannico David Cameron per illustrare loro cosa intende fare l'Italia che ha la guida del G7, che è la grande organizzazione delle democrazie liberali con industrie avanzate nei prossimi mesi. L'Italia ha infatti l'onore di guidare questa organizzazione per tutto il 2024. Ho fatto le stesse telefonate al segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken e al ministro degli estri canadese Melanie Jolie e così farò nei prossimi giorni con il ministro degli estri tedesco e con quello giapponese e con l'alto rappresentante dell'Unione Europea. L'Italia vuole essere protagonista, vuole che il G7 possa essere portatore di pace nel mondo di equilibrio. Guarderemo certamente alla situazione in Ucraina quella in Medio Oriente ma ci occuperemo anche di intelligenza artificiale. L'Italia organizzerà quattro incontri uno a Capri il primo, poi a Villa San Giovanni in Calabria, Pescara e a Fiugi per riunire i vertici del G7 che si occupano di politica estera. Lavoreremo per la pace in Medio Oriente, non sarà facile, però non rinunciamo l'obiettivo due popoli, due stati. Lavoreremo per difendere il diritto internazionale in Ucraina continuando a sostenere le ragioni della libertà e della democrazia. Lavoreremo anche per garantire la libertà dei commerci e della navigazione nell'area del Mar Rosso e poi, ripeto, c'è la grande questione dell'intelligenza artificiale. L'Italia vuole essere protagonista insieme alle altre grandi democrazie liberali per guardare al futuro, dialogando anche con i paesi del G20 e naturalmente con le Nazioni Unite.